Centro bevande da Giacomino A Panico, in provincia di Uccelleto, a soli due passi da Borgo Lorenzini e a 20 minuti di auto dal Via del Pantano. Centro bevande da Giacomino, scegli la qualità. Vai a da Giacomino! Da oltre 20 anni Giacomino gestisce i suoi clienti che non si sono mai lamentati. Giacomino, il re della beuta. Ricette originarie tramandate dagli zii degli zii. Il venerdì sera, all'ora della peribeuta, corri a Panico, in provincia di Uccelleto, a 5 minuti da Fosseto. Ed è proprio il venerdì sera che la gioventù aggiunge tutta a Panico, per la peribeuta di Giacomino. Vada la chieschiuma! Vada la chieschiuma! Mmmmm! Questa è la presa di Fosso, l'acqua. Ma è un po' marroncina questa acqua, io non te lo volevo dire. Le leggermente caffè e latte. Vai, ovvi un occhio. Ma no, vabbè, comunque ritorniamo da Giacomino, ragazzi. Tutti i venerdì sera alla peribeuta. Via! Un altro occhio. E vai, e vai. L'acqua di Fosso, fresa a Iolo, un via di Fosso, è veramente spettacolare, ragazzi, una spettacolarità. Boccioni delle ditte di Maralotto, per l'estate, che ho consumato l'acqua. E si riabbocca, va riabbocca, la beuta la va riabbocca, ci vuole una riabboccagine. È un po' come il banco della limonata, che fanno vedere le firme americane, no? Il banco della limonata, fanno lì senza scontino, senza nulla. Se tu lo fai in Italia, arrestano, c'è la finanza dopo un minuto. Allora, vediamo l'acquirente. L'acquirente c'aveva un'arsura, c'aveva un'arsura, lui era tutti i giorni e c'aveva l'arsura. Oh, vai. Oh, chi è questo? È quello dei Queen? No, è quello dei fatti di film di Freddie Mercury, aspetta. Gli è i sosia di sosia, questo. Passate anche a lasciare un like dalla pagina originale. E lasciate un like alla nuova pagina, il Bellini. Buona buo, aioli.